La domanda di oggi. La domanda di oggi è legata a questa polemica violenta tra il giornale nuovo e l'avvenire. Tra l'avvenire e il giornale nuovo. Una polemica alimentata quest'oggi da una dichiarazione che mai abbiamo ascoltato da un principe della Chiesa. Personalmente non ho mai visto un principe della Chiesa avere una dichiarazione fortissima. Vabbè, forse perché lui come Monsignor Santarossa ha trascorsi i militari, quindi il verbo insomma. Però non l'avevamo mai percepita. E allora andiamo a ricostruire cosa è accaduto. E' accaduto che Boffo, questo direttore laico dell'avvenire, ha fatto alcuni articoli. Articoli che condannavano le gesta e il modo di vita di Silvio Berlusconi. Capibile. Uno nella libertà di stampa può scrivere, insomma, non diffamare, ma comunque, visto che la cosa è pubblica, può criticare. Ha sottolineato più volte che, per quanto riguarda le amicizie del Silvio nazionale, ha detto che è desolante ed il consenso non assolve. Dice ancora, la vicenda, scriveva allora Boffo, Dino Boffo, sull'avvenire. Non solo non ci convince, ma per quanto ho cerato di capire, continua a piacere poco e punto a larga parte del paese reale. Questo in merito allo scandalo delle escort. Oggi escort in Grecia avevano un altro titolo, anche a Pompei avevano un altro titolo. Oggi invece il gossip dice escort. Sempre si pagano, comunque, no? Allora, poi, sempre lo stesso Boffo, attacca la maniera del premio di sbandierare i sondaggi. Non ci piace, scriveva allora, nella rubrica delle lettere al direttore, che determinati comportamenti siano messi a confronto con il consenso inafferrabile dei sondaggi, quasi che da questi possa venire l'avvallo a scelte poco consone. Poi, ovviamente, rispondendo a delle lettere, arrivava lo schiaffo, insomma, tremendo. Desolazione, scriveva Bozzo. Non possiamo accettare le battutine berlusconiane tipo non sono un santo di un desiderio irrinunciabile che i nostri politici siano sempre all'altezza del loro ruolo, il che non significa moralismo, ma soprattutto chiedeva, insomma, una posizione bipartisan. C'è davvero per la classe politica, si chiedeva allora Boffo, ancor prima della decenza, un aprioristico etico che va salvaguardato sempre e in ogni caso? Allora, vedete, io da sempre, insomma, dico a volte che bisogna stare molto attenti quando si scrive, quando si parla, perché si può parlare bene e razzolare male. Cosa è accaduto? È accaduto che il giornale nuovo di Vittorio Feltri, e conosciamo Vittorio Feltri perché l'abbiamo incontrato anche personalmente, nemmeno a me piacciono i moralisti, però devi avere quantomeno una fedina pulita, è santo Dio, non puoi fare il moralista, non puoi cacciare la penna e poi magari molesti alla persona, articolo 660 del codice penale. E quindi Feltri fa un articolo, fa un articolo, dove sottolinea che questo direttore di avvenire ha patteggiato, ha patteggiato una pena, perché? Perché, insomma, è stato in qualche modo, grazie a delle intercettazioni, scoperto che lui molestava la moglie del suo amico, nel senso, faceva di tutto perché la moglie divorziasse dal suo amico. Amico, amico, nella vita privata e sotto le coperte ognuno fa quello che vuole, ovviamente, no. Però, santo Dio, non puoi ora, no, parlare di linciaggio, parlare quando ad un certo punto, no, è come da tempo io chiedo la pena capitale, chiedo che i ladri siano messi in galera, chiedo che i pedofili siano castrati chimicamente e poi qualcuno scopre, no, che è sottoscritto, magari, no, nel suo, diciamo, casellario, troveretevi dipendio il capo dello Stato e non altro, c'è anche un patteggiamento perché, insomma, mi piaceva fotografare il bambinetto. Allora la coerenza, se sono due cose distinte, qualcuno dirà, sono due cose, ma, insomma, la coerenza è coerenza, non puoi fare il moralista, tirare schiaffoni e poi vieni cuccato, cuccato, no, a tirar bestemmi e parolacce, tra l'altro è uno, boffo, è uno di Asiago, ha la moglie del tuo amico perché devi farla divorziare perché vuoi stare... Cioè... Cosa è accaduto? È accaduto che oggi c'è stata... A parte che Feltri non è stato intimorito da questa alzata di scudi, no, abbiamo ascoltato poi le dichiarazioni dell'Italia dei Valori, abbiamo ascoltato tante dichiarazioni, vabbè, ma, insomma, contano quello che contano. Ma detto questo, Bagnasco oggi, piuttosto incarugnito, tra virgolette, cioè, ad una domanda ha risposto. L'attacco che è stato fatto al dottor Boffo, direttore di Avenire, è un fatto disgustoso e molto grave. Perché quando si è toccati, in primis, è ovvio, è un fatto disgustoso. Quando si attaccano altri, invece... Ma la mia domanda è semplice, semplice. Il presidente della CEI, Bagnasco, due punti, l'attacco di Feltri, ho aggiunto Feltri perché l'attacco viene dal direttore del giornale, l'attacco di Feltri al direttore di Avenire, boffo e disgustoso. È grave, ma grave, non ho voluto aggiungere, è disgustoso già dice tutto. Voi siete d'accordo con questa dichiarazione? Dell'eminentissimo Cardinal Bagnasco, presidente della CEI. Per non parlare poi anche di nostri politici italiani, insomma. Quello è stato beccato, no? Con la cocaina e con le escort. Qualche altro senatore a vita beccato con la cocaina e ha detto no, 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 mi serve per la salute. Non sto scherzando, è un senatore a vita. tuttora, è vivo, vegeto. Ha cucato, ha cucato il suo segretario che arrivava con la polverina, ha detto no, no, è mia, mi serve per curarmi. Grazie.